Utile ricomprendere in un testo unico la complessa materia dell'urbanistica, ma tutto ciò deve essere inteso come punto di partenza verso una semplificazione legislativa e normativa più marcata. Bene, la normativa che obbliga le pubbliche amministrazioni ad azioni meno afflittive, necessaria un'azione di allineamento tra testi unici di materie diverse. Riflettere sugli assetti della pianificazione dei livelli istituzionali, la Regione preveda un tavolo per portare avanti vere e concrete riforme di semplificazione. È quanto emerso in seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, nel corso di una audizione sulle norme regolamentari attuative del testo unico in materia di governo del territorio e materie correlate. Il progetto normativo di attuazione del testo unico dell'urbanistica verrà breve analizzato in commissione e dopo il primo passaggio partecipativo verranno portate all'attenzione della Giunta regionale le indicazioni e le proposte emerse dall'audizione.